Un'ultima cosa, posso rubarlo? Te lo dico io allora, vabbè, adesso abbiamo fatto tutte queste cose qua, adesso beviamo il caffè, mangiamo il caffetto di panettone, portatevi un semplice regalo che sarà un regalo che la società vi ha fatto tutti voi, con una notizia che potrebbe essere, spero che sia una delle prime notizie buone da qui in avanti, è che finalmente abbiamo il primo co-sponsor sulla nostra maglia, il primo perché è brevissimo, vedremo anche il secondo, che è Foxtown. Tra virgolette mi viene da ridere, fate un applauso, c'è qua il direttore generale Marco Eretti, c'è qualcuno, vedo già il giocatore, avremo lo scontro, chiedete a lui, non chiedete a me, quindi, una cosa, mi viene da ridere perché la società Calcio Combo, il primo sponsor di maglia, è uno svizzero, quindi c'è tutto da dire, speriamo di riuscire a convincere anche qualche sponsor. Comasco a fare lo sponsor della prima maglia, e anzi, penso che forse ci riusciremo, quindi, questa è la prima buona notizia, speriamo che ne arrivino tante altre. Prima di tutto, buon Natale ancora a tutti, a tutte le famiglie, a tutte le vostre famiglie, e grazie per la pazienza fino ad adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.